E così, signori, l'anima di questo animale, un'anima inferiore rispetto a quella dell'uomo, che è un'anima superiore, fa in modo che quello stomaco digerisca, estraendo dagli alimenti i succhi necessari al mantenimento della vita. Il dottore attribuisce all'anima funzioni che sono proprie del corpo. È un antico pregiudizio, una sensazione infantile, fallace come tutte le sensazioni, è fonte di rovinosi errori. Domando scusa se intervengo. Dite, sbagliate a ritenere fallaci le sensazioni. Quando un fanciullo emerge un bastone in un ruccello, la vista gli può far credere che sia spezzato. Ma se, chiudendo gli occhi, tasta il bastone per tutta la sua lunghezza nell'acqua e fuori, si renderà conto che il suo bastone è dritto. Avrà allora corretto la sensazione della vista con il tatto ed è stabilito la verità senza uscire dal mondo delle sensazioni. No, signore, poiché nel nostro caso è intervenuta la ragione del fanciullo, che gli fa controllare la sensazione del tatto dopo quella della vista. È la ragione che lo conduce a rettificare il suo errore. Senta il controllo della ragione, le sensazioni sono tutte fallaci. Ecco qui il cuore di questo animale che l'anima faceva muovere grazie alla facoltà pulsifica che essa possiede. Il dottore fa delle affermazioni di cui non saprebbe dimostrare con evidenza la verità. Non ci sa dire in che modo l'anima inferiore di questo animale agisce direttamente sul nostro cuore. Che cosa hanno da obiettare, loro signori? Perché non parlano ad alta voce se hanno qualcosa da dire? Io dico che per giustificare le vostre affermazioni, voi ripetete antiche teorie aristoteliche sull'anima e vi affidate a vostre personali sensazioni. Ciò che insegno è verità evidente, mio signore. Per la maggior parte degli uomini l'evidenza è ciò che hanno sempre visto, sin dall'infanzia, quando gli adulti davano alla loro mente semplice una spiegazione per tutte le cose. Per scoprire invece con assoluta certezza la natura delle cose, noi dobbiamo liberarci dalla visione del mondo che ci siamo andati costruendo di padre in figlio attraverso i secoli. Dobbiamo affrancarci dall'inganno delle sensazioni, imparare a servirci meglio della nostra ragione. Ecco che cosa da dire. E quale visione del mondo avete da offrirci in cambio, mio caro signore, visto che negate quella che ci tramanda l'esperienza secolare degli antichi? Una visione del mondo che risulti evidente, come quella che ci viene dai numeri, dalle matematiche. Insomma, voi pretendereste di sostituire gli insegnamenti della filosofia e delle scienze, che ci vengono da una così lunga tradizione di dotti, con l'insegnamento dei matematici dei nostri giorni. Ma la realtà non è fatta di quantità, vi sono le qualità delle cose, ed esse si percepiscono attraverso le sensazioni, quelle sensazioni che voi tanto temete. Permettetemi, signore, di mettervi in guardia contro le vostre pretese, perché potreste rischiare di precipitare la vostra mente in una oscura foresta di numeri. Il mio giovane amico è un abile e profondo matematico, e io voglio sperare che comprenderete il suo entusiasmo, forse un po' eccessivo, per la chiarezza che proviene dai numeri. Sì, certo, signore. Chiedo scusa per avervi interrotto, signore. Vi prego, continuate pure la vostra dissezione. Signori? Signori?